CDO sta per Chief Digital Officer ed è una figura che ha un taglio manageriale e inizia a fare la sua presenza nelle aziende anche in Italia. Il CDO risponde direttamente, dovrebbe rispondere direttamente all'amministratore delegato e a lui rispondere tutte le funzioni aziendali, perché come sono solito dire il digital è un elemento pervasivo, non è una funzione aziendale. In ambito gioiello il CDO dovrebbe traghettare l'azienda in questa trasformazione digitale che è in atto, magari tenendo il focus sulla parte sales e marketing e possibilmente avendo una visione d'insieme di questa industria e dei processi di produzione. Il CDO è una figura che diventa sempre più critica con il passare del tempo e il suo ruolo è sostanzialmente quello di contaminare l'azienda con le innovazioni che il digital si porta dietro. Tieni d'occhio queste evoluzioni, buon lavoro!